salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco ebbene sì in molti probabilmente si aspettavano che prima o poi avrei parlato di questo gioco ovvero di near reincarnation ho avuto modo di giocarci un po ho iniziato comunque a studiare un pochettino le meccaniche del gioco guardare fondamentalmente come funziona e come poter gestire al meglio questo tipo di gioco ed è proprio per questo che oggi voglio comunque fare una piccolissima guida per quanto riguarda appunto il gioco e darvi delle basi fondamentalmente sulle quali poter costruire qualora ne abbiate voglia un vostro profilo per quanto riguarda il gioco ovviamente vi dico già da subito che per chi vuole giocarlo sul telefono deve comunque disporre di un telefono abbastanza potente è un gioco comunque di ultima generazione e di conseguenza ciuccia parecchie risorse per quanto riguarda invece l'emulazione tecnicamente bisogna utilizzare un emulatore come per esempio bluestacks ad esempio che penso sia quello migliore al momento in circolazione con una tecnologia però a 64 bit quindi se voi avete la versione da 32 scaricatevi la 64 perché altrimenti il gioco non potrà essere installato detto questo fatta questa piccola premessa magari per molti che non sapevano effettivamente neanche come poter installare il gioco che si trova tranquillamente comunque sul play store basta avere appunto la versione a 64 bit parliamo un attimo del menu non vi parlo della storia perché io per esempio già qui come potete vedere sono a uno stato un po più avanzato rispetto alla storia di base per cui non voglio fare spoiler per chi come me sta seguendo ovviamente tutte le vicende del gioco per quanto riguarda il menu una volta cliccato il diciamo una volta cliccato lo schermo avremo a disposizione diverse iconcine avremo il nostro rank in alto a sinistra che in questo caso io sono a livello 20 la stamina che sarà l'energia che andremo ad utilizzare per lo svolgimento delle quest o in generale delle missioni la nostra valuta in cristalli che per praticamente ci permetterà di ottenere in questo caso gemme che ci permetterà appunto di pullare e di ottenere i personaggi o le armi all'interno dei vari banner che si possono ottenere in modo gratuito completando le missioni o pagando in soldi reali ma questo già lo sappiamo benissimo i soldi che sono la valuta che ci permetterà di potenziare armi personaggi memorie eccetera eccetera che andremo a vedere successivamente e poi qui invece abbiamo il classico menu con le notizie con il gift box dove appunto riceveremo giornalmente e dopo il completamento delle missioni in generale i nostri i nostri cristalli o in generale oggetti che otteniamo all'interno delle missioni il menu dello shop che ovviamente è caratterizzato dal fattore di premium shop dove si potranno comprare le gemme per pullare all'interno del profilo o vantaggi che possono essere utilizzate all'interno del gioco l'item shop che ci consentirà comunque di ottenere oggetti in generale in base ai nostri soldi quindi la valuta del gioco interno e poi successivamente l'exchange shop che ci consenterà di scambiare ticket oppure oggetti ottenuto all'interno degli eventi per ottenere oggetti personaggi addirittura o benefici in generale vi faccio vedere anche il menu dell'exchange shop visto che ci siamo come potete vedere in questo momento abbiamo la collaborazione con near automata quindi avremo la possibilità di ottenere armi e personaggi di near automata però a tre stelle dato che la qualità massima al momento del personaggio o dell'arma in questione 4 quindi avere comunque un buon personaggio una buona base per poterli potenziare e successivamente averle all'interno del party ticket che possono essere utilizzati nel banner per effettuare comunque delle pull delle vere e proprie pull come in un qualsiasi gacha dato che fondamentalmente anche questo titolo è un gacha e poi vari oggetti che comunque possono servire per il potenziamento il power up dei nostri personaggi questo invece per quanto riguarda le summon come potete vedere abbiamo una cornice di colore diverso che rappresenta il personaggio a quattro stelle che vi ricordo essere per il momento la qualità massima e questo invece è il raggiungimento del pt cosa il pt lo andremo a vedere quando ci soffermeremo un pochettino sulle summon abbiamo anche la possibilità di ottenere token speciali grazie alla celebrazione che è attiva in questo momento e poter poi scegliere effettivamente quale ricompensa ottenere e quindi diciamo che il change shop è praticamente quel quello stesso diciamo quello stesso shop che è presente in tutti i gacha dove si possono scambiare materiali che si ottengono all'interno delle varie sezioni di gioco per ottenere appunto ricompense che possono essere personaggi oggetti equipaggiamenti e via eccetera eccetera le missioni dove appunto abbiamo degli obiettivi giornalieri o delle sfide speciali collection eccetera eccetera dove appunto abbiamo la possibilità di poter guadagnare gemme quindi valuta in gioco o addirittura di poter guadagnare oggetti sticker e tutte altre robe che ovviamente ci possono far comodo all'interno del nostro gameplay per quanto riguarda poi i friends ovviamente classica schermata dove è possibile appunto mandare richieste di amicizia farsi cercare dai propri amici aggiungersi e poter comunque sfruttare il companion in diverse situazioni il menu help che ovviamente è soltanto un aiuto per chi magari vuole ripassare un attimino le regole che è la stessa cosa che praticamente sto facendo io per quanto riguarda invece il menu generale il menu generalizzato si può accedere adesso tramite questi con cina qui in basso l'iconcina qui in basso che ci consentirà di aprire il nostro menu generalizzato ma che poi successivamente potrà essere esplorato in qualsiasi altra forma il loadout cos'è il loadout? il loadout non è altro che la composizione e la scelta dei vostri personaggi e del vostro team che appunto sfrutterete per completare le varie missioni di gioco, dei dungeon e via dicendo enhance il pannello o comunque il menu esclusivo che vi permetterà di potenziare personaggi, armi, memorie e via di seguito quest che è per l'appunto il menu dove potrete scegliere e potrete visualizzare meglio quali sono le main quest quindi la storia principale o tutte le side quest, i dungeon e via dicendo e anche gli eventi exploration praticamente è una forma personalizzata del gioco di un piccolo evento un piccolo mini evento presente all'interno del gioco che vi potrà dare ricompense e vi potrà dare anche la possibilità di ottenere dei materiali library non è altro che una sorta di diario personale dove avrete la possibilità di collezionare la storia quindi la possibilità di rileggere la storia, i vostri avversari e tutto ciò che avete fatto all'interno del gioco il menu delle summon che è probabilmente quello che tutti stiamo già sfregando le mani per cercare di capire come funziona al meglio che vi permetterà di ottenere armi e personaggi nuovi di rarità dalle 2 stelle fino alle 4 al momento e poi il menu generale che è quello che vi permetterà di aggiustare grafica, audio, il vostro profilo vi permetterà di linkare i dati e vi permetterà in generale di fare tutto ciò che in un gacha è possibile fare andiamo a vedere un attimo il menu per quanto riguarda il menu generalizzato e adesso come potete vedere abbiamo anche tutta la barra del menu che abbiamo visto prima di sotto in modo tale da non dover fare sempre avanti e indietro col menu e poter switchare le varie finestre dall'interfaccia che viene decisamente più comodo per quanto riguarda il loadout le cose da dire sono abbastanza semplici avremo un loadout personalizzato che potremmo ovviamente caratterizzare con 3 personaggi per volta sia per quanto riguarda le missioni quindi le quest in generale e sia per quanto riguarda l'arena al momento io nell'arena non ho messo niente dato che è in manutenzione e per il momento è chiusa quindi non è possibile per il momento sfruttare appieno il pvp non so come funzionerà il pvp spero che non sia troppo pay to win perché in un gioco del genere dove comunque si ha la possibilità di vedere i personaggi di Nier mi farebbe molto piacere vedere come si scontrano tra di loro i vari personaggi per quanto riguarda il menu e quindi il loadout in generale avremo la possibilità di guardare il deck list ovvero la possibilità di guardare come potete vedere i vari deck che possiamo costruire con i nostri personaggi con personaggio principale e la sua e la loro anzi in questo caso arma principale e poi vedremo anche in che cosa consiste il menu per quanto riguarda il loadout e la personalizzazione del personaggio placement che è appunto la posizione con i quali possiamo distribuire i nostri personaggi sul campo e poi display che ci permette appunto di vedere tutto l'equipaggiamento completo perché il nostro equipaggiamento sarà caratterizzato da un'arma principale come potete leggere qui weapons primary e poi due armi secondarie che ci consentiranno di accrescere la nostra forza totale un companion che sarà per l'appunto un grimorio e per l'appunto un companion così come su automata o replicant in generale avevamo il grimorio un grimorio wise o grimorio in generale per quanto riguarda i bot i pod per quanto riguardava un'era automata in questo caso avremo comunque delle bambole o comunque come ho per esempio su 2b un vero e proprio grimorio quindi ci permette comunque di ci permette il gioco comunque di avere un companion che non è altro che un supporto che aumenterà comunque in generale le nostre statistiche e farà un attacco speciale quando la sua barra sarà carica quindi è una sorta di summon fondamentalmente per chi ha in mente un pochettino il gioco le armi primarie e secondarie ovviamente non verranno cioè verrà visualizzata sempre comunque l'arma primaria ma le armi secondarie serviranno solo per accrescere le nostre statistiche in generale e poi infine le memorie che possiamo equipaggiare in basso che però verranno sbloccate successivamente quindi dopo aver affrontato tutta la prima parte di tutorial chiamiamola così che ci consentiranno di ottenere sempre e comunque delle statistiche bonus il totale della nostra forza che ci consentirà di capire se siamo degni o comunque siamo all'altezza di poter affrontare una quest o meno la vedremo in alto dove appunto c'è scritto total force total force sta ad indicare la forza totale del nostro team e quindi la capacità di poter riuscire a completare più o meno facilmente uno stage sia di arena o in generale di quest quindi di missione principale il menu degli enhancement menu degli enhancement che come vi ho detto prima ha la possibilità di potenziare i personaggi con characters, weapons con le nostre armi, companion quindi i nostri minion potranno essere potenziati e le memoir che sarebbero appunto le memorie che ci permetteranno appunto di ottenere sempre statistiche in più mentre invece tutti gli oggetti che non ci interessano o che vogliamo in un qualche modo buttare via possiamo metterle in lista o venderle lista non so se effettivamente verrà inteso come una compravendita all'interno del gioco tra giocatori il che sarebbe anche abbastanza interessante oppure venderli direttamente per ottenere i soldi quindi la valuta di cui stavamo parlando precedentemente il menu delle quest che si divide in main quest e sub quest arena per il momento come potete vedere è chiuso quindi abbiamo la manutenzione e la mamma's room che in realtà non è altro che lo stesso menu diciamo delle main quest, sub quest eccetera eccetera visto però in 3d quindi con la possibilità di interagire con uno spazio aperto il che sinceramente per il momento non ho trovato estremamente utile per quanto riguarda le main quest abbiamo la possibilità a parte di sbloccare successivamente la difficoltà in hard quindi avere la possibilità di rifare praticamente tutto il gioco per meglio dire tutta la prima parte del gioco a difficoltà anche difficile quindi avere la possibilità di farmare ulteriormente risorse e vi dico però già da adesso che fino al capitolo numero 6 quindi fino a questo capitolo sarà tutto un eterno tutorial quindi tutti questi capitoli vi consentiranno non solo di ottenere un buon quantitativo di gemme ma vi consentiranno anche di imparare bene tutte le meccaniche del gioco così come le sto imparando tuttora io quindi cercate di fare molta attenzione cercate di fare cercate di appunto svolgere questo tutorial nel miglior modo possibile perché sicuramente avrà la possibilità di aiutarvi nel futuro una volta finito questa prima parte di tutorial comincerà il vero e proprio gioco ovvero dove sono arrivato fondamentalmente io quindi il primo intervallo e poi successivamente partirà il capitolo numero 7 che per il momento posso fare solo a normal e poi successivamente anche in questo caso potrò completarlo sempre in hard mode per quanto riguarda invece le subquest come vi ho detto prima le subquest saranno praticamente divise fondamentalmente in quelle che sarà l'evento al momento principale che è appunto la collaborazione con Nier Automata che ci permetterà di ottenere punti e scambiare successivamente oggetti tramite i token che sono questi che potete vedere qui che saranno fondamentalmente il fulcro di questo evento le daily quest che ancora io devo fare che potremo appunto completare giornalmente in base alla suggested force che ci consentirà di capire se il nostro team è all'altezza o meno e quindi avere la possibilità di poter affrontare tutte quante le missioni e ottenere diversi oggetti per potenziamenti e power up in generali le guerriglia quest che sarebbero niente poco di meno che delle quest che vengono sbloccati in delle fasce orarie ben precise che ci permettono di ottenere oggetti che solitamente potenziano i personaggi barra le armi quindi in base a quello che uscirà nei vari giorni probabilmente avremo la possibilità di potenziare l'uno o l'altro i dungeon che verranno sbloccati dopo tutta la prima fase di tutorial quindi dopo il capitolo 6 che ci consentiranno di acquisire delle memorie come potete vedere che vi ricordo essere semplicemente delle statistiche bonus che possono essere date ai nostri personaggi e che quindi quando appunto avremo la possibilità di completare gli stage ci permetteranno appunto di ottenere diverse memorie e diversi comunque potenziamenti per esse quindi abbastanza interessanti e per il momento ne abbiamo due abbiamo due dungeon che ci permettono di ottenere queste memorie che sicuramente io andrò a formare perché alcune di queste addirittura sono molto molto buone le caratteristiche delle memorie ovviamente potrete vederle o cliccando sulla memoria ma per il momento credo che qui vi faccia vedere soltanto l'anteprima della memoria ma una volta ottenuta nel menu delle memorie potrete leggere le loro caratteristiche e potenziare quelle che ovviamente più vi aggradano e poi le character quest character quest che non sono altro che missioni dedicate ai personaggi di storia questi sono tutti i personaggi che voi incontrerete durante la storia principale avranno ognuno una propria storia e si uniranno tra virgolette a voi perché voi avrete appunto questa capacità di poter in un qualche modo risvegliare le coscienze tramite i sogni di queste persone ma non dico altro perché vi ripeto non voglio fare spoiler voglio che siate voi appunto a godervi la storia così come me la sto godendo io il menu dell'esplorazione che come vi ho detto prima abbiamo questo minigioco dove è possibile entrare e svolgere un'attività di minigioco fondamentalmente per ottenere ricompense ed oggetti in generale da scambiare tramite il menu exchange la libreria che come vi ho detto io abbiamo praticamente la possibilità di rivedere le cutscenes che sono praticamente dei filmati veri e propri che verranno inseriti all'interno del gioco rileggere dialoghi e rivedere in fondamentalmente storie del capitolo della storia principale i capitoli dei personaggi che otteniamo tramite la storia gli eventi e poi vabbè tutte le card l'enciclopedia che fa parte appunto di tutte le carte che abbiamo collezionabili nemici, mostri, tutto quello che appunto è presente all'interno di un qualsiasi gacha dal punto di vista di collezionismo andiamo infine al menu delle summon penso che il menu delle summon sia quello che fondamentalmente tutti stavamo aspettando perché? perché ovviamente è ciò che rende il gacha appetitoso ovvero evocare per i personaggi nuovi al momento ci sono due banner in collaborazione con Nier Automata dove abbiamo la possibilità di ottenere il trio 9S, 2B e A2 all'interno del primo banner mentre invece nel secondo banner possiamo trovare Fio, 2P e Akea personaggi che comunque non sono mai visti fondamentalmente su Nier Automata e che sono stati introdotti in questa versione di gioco ovviamente possiedono comunque un Pity in comune come potete vedere i cristalli che sto accumulando appunto per ottenere 2B con i capelli neri fondamentalmente perché mi interessa averla in team, a me piace 2B fondamentalmente mi piace quindi la voglio assolutamente nel mio team ho la possibilità comunque di accumulare per prendere ascensioni del personaggio all'interno di questo banner e poi successivamente scambiare per quanto riguarda ovviamente il personaggio l'unica cosa che mi viene in mente da dire è che quando otterrete un personaggio doppione verrà convertito in materiali per le ascensioni ora chi è più, chi ha di mistichezza con i giochi gacha sa che comunque un personaggio può aumentare di livello tramite l'esperienza che può assumere in battaglia o meno vi faccio l'esempio per esempio con 2B che ho già maxato praticamente quindi abbiamo la possibilità di dare un potenziamento generalizzato al nostro personaggio incrementare le skill ottenendo i materiali giusti e poi permettere le ascensioni le ascensioni non sono altro che come vedete qua praticamente come un qualsiasi gacha i limit break quindi abbiamo la possibilità di far aumentare ancora di più il livello del nostro personaggio far aumentare ancora di più il livello del nostro personaggio sta ad indicare una potenza superiore ma questo penso che ovviamente tutti i più accaniti fan della serie dei gacha saprà già come funzionano stessa cosa con le armi trovando i doppioni delle armi si potranno ascendere e quindi potenziare ancora di più eccetera eccetera quindi diciamo che fondamentalmente per chi conosce il gacha non è nulla di nuovo è un gioco in cui bisogna prendere delle meccaniche in cui bisogna prendere fondamentalmente degli schemi ma poi per il resto è tutto completamente uguale l'unica nota che mi vuole dover sottolineare e aggiungere di questo gioco è che il combattimento è tutto automatizzato quindi non ci sarà la possibilità di interagire col campo da battaglia tutto ciò che dovremmo fare noi è andare avanti con la storia e successivamente cambiare il nostro team e gestire il nostro team dal punto di vista comunque di equipaggiamento memorie, potenziamenti eccetera eccetera quindi questo diciamo che un pochettino mi ha lasciato con la mano in bocca perché se fosse stato un RPG comunque a turni così come abbiamo visto anche su Opera Omnia penso che sarebbe stato uno dei miei giochi assolutamente preferiti invece lo sto prendendo molto come passatempo lo sto prendendo molto come una storia a se stante senza avere la necessità di lasciare troppo in fretta detto questo io spero che fondamentalmente questa piccola guida questa piccola introduzione al gioco vi possa essere utile scrivetemi magari sotto nei commenti se ci sono delle imprecisioni o se ci sono delle cose che volete chiedermi più nel dettaglio qualora vogliate avere appunto delle informazioni e per qualsiasi cosa vi ricordo che ho un canale Discord che trovate sotto in descrizione un canale Twitch dove potremo anche vederci qualche volta e giocare insieme e per il resto a me non resta altro che augurarvi un buon gameplay ovviamente vi ringrazio tutti quelli che hanno visto il video fatemi sapere sotto nei commenti se c'è qualcosa che volete aggiungere o che volete discutere con me e io come sempre vi aspetto con un prossimo appuntamento bye bye